Buongiorno, siamo qui all'Expo 2015 con Vesot, l'artista del secondo turno del progetto Cibus in Fabola di Felice Limosani. Vesot, come vi state trovando con il nostro stampo alicril? Ci stiamo trovando bene, soprattutto per quello che riguarda i colori acrilici che aggraffano molto bene, insomma funzionano benissimo. Credo che sia un buon prodotto per poterci lavorare sopra spray, ma soprattutto ad acrilici. Stiamo lavorando a livello di mezzi, sia con lo spray che con le vernici smalti acrilici, insomma, smalti ad acqua. A livello, insomma, tecnico, quello, insomma, che è un po' il mio stile, consiste nel mixare figurativi con forme geometriche astratte. Come vi sembra la risposta del tessuto? No, diciamo che a livello, appunto, tecnico, sul tracciare linee, eccetera, è, insomma, perfetto. Per quanto riguarda la vostra realizzazione, qual è l'idea di base ricondotta a nutrire il pianeta? Sì, trattando il tema dell'ecosostenibilità, avevamo, ho deciso praticamente di rifarmi un po' all'iconografia e al tema della Genesi, in particolare la storia di Adamo ed Eva, rappresentando una sorta di caduta del cielo inseguendo una mela. La mela rappresenta semplicemente il prodotto della terra e l'idea, insomma, che un prodotto ha una storia dietro, no? E quindi il prodotto ecosostenibile fa in modo che noi non perdiamo più il nostro paradiso perduto, il nostro paradiso, insomma, non perduto. Bene, ti ringrazio e buon lavoro. Grazie, grazie a voi. Grazie a voi.